e scende il canzello con la tabella 3-5-1 Martino Caslini del Garlate prende il comando su Riccardo Girelli ha peccato la scivolata lì sul doppio della prima linea e ancora Caslini al comando in seguito dalla treta del Pescantina con la tabella 96 Riccardo Girelli con la tabella 136 in terza posizione Ryan Magosso del team Vinicio Verona e a chiudere con l'ultima posizione disponibile per entrare in semifinale la treta del team PMX Preazzo ancora il cancello Tami, Caffeo, Maddalena, Mantovani e Franchini